Stasera apriamo la serata con Michele Antonicelli, una liva del primo anno, che ci farà ascoltare di Zerni Diabelli, tre studi perché hanno fatto le quattro mani, l'accompagnerò io alla parte del basso, gli studi 3, 8 e 11 di Zerni Diabelli, pezzo di profondità. Nunca Pandolfi, un altro ragazzo del primo anno esperimentale, ci suona di Zerni Diabelli il numero 14 perché hanno fatto le quattro mani. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cazzoletta di Mozart, sempre in cappella. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.